14", di diametro grande in un telescopio designato per l'astrofotografia digitale anche con chip grandi e tutto designato per aiutare a creare il vostro observatorio personal. Qui hai il Celestron Edge HD 14". Il Celestron Edge HD 14", è il modello più grande della Celestron Edge HD. Grazie a suo diametro grande 14", è bello per applicazioni visuelli e fotografici, sia in applicazioni di alta risoluzione, ma anche per gli occhi profondi, per le nebuli o le star. L'Optica Edge HD è l'evoluzione del telescopio Schmidt-Gassegren. Ha molti miglioramenti. Il più importante è l'integrazione di un corrector che ci permette di ottenere star punti, anche con le camere di sensore. La grande attenzione di questo sistema è che è designato per l'astrofotografia. In effetti, potete usare il f10, o potete aggiungere il focal reducer e convertire il f7, o potete installare l'Hyperstar System, invece di un secondario mirror, e convertire in un f2 astrograph. In order di usare l'Edge HD 14", per l'astrofotografia, potete collegare, per esempio, una camera di CCD, come in questo caso, con un filtrato e un guidero di filtrato, che ci suggeriamo sempre quando vogliamo fare l'astrofotografia con un focal lungo. E poi potete controllare e potere tutto con l'EGLE, che è installato direttamente e clammato sull'Osmandi bar. In questo modo, potremo avere un telescopio molto potente, per il mostro di astrofotografia e per il remote operazione. Grazie.